Faenza, l'inaugurazione della mostra del IV Congresso Nazionale della Ceramica con l'intervento di un largo stuolo di ceramisti di ogni parte d'Italia. Il sottosegretario all'educazione nazionale visita la mostra che conferma lo sforzo costante e geniale dei nostri artigiani per osservare e rinnovare nello stesso tempo le superbe tradizioni della ceramica italiana celebre nei secoli ed in ogni parte del mondo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!